Start, 2, 1, missione e liftoff! Con 29 dollari lo avete quando uscirà su Steam, oppure con 29 dollari lo potrete già giocare in playtest su Steam aspettando che esca ufficialmente in early access, con il DLC delle auto e a 39,99 dollari avete anche il DLC Buildings. Che cos'è? È un simulatore di economia. È molto interessante, cercherò di spiegarvi a grandi linee quello che il gioco ha da offrire. Ora sono in pausa, ho il mio personaggio, il personaggio è caratterizzato da tre parametri, l'energia, la fame e la felicità. La felicità è la cosa più complicata da far salire, dovete avere una buona casa e riuscire a compiere i vostri obiettivi personali e soprattutto avere un guadagno. Io non ho ancora, vi dico la verità, ho già passato parecchie ore su questo gioco, per la precisione ne ho passate quasi cinque, ma non ho ancora spulciato bene tutti i parametri economici. In sintesi, l'energia la fate salire dormendo e la consumate lavorando o vagando per la città e la fame e mangiate ovviamente. Abbiamo una sorta di cellulare qua in basso che ci dà la possibilità di contattare varie attività, per cui non serve magari necessariamente recarsi sul posto. Allora, addirittura potete chiamare anche solo un giorno e farvi mandare un oggetto da catalogo, quindi non lo sbloccate subito questa cosa perché io mi erico ancora, questa è una sorta di Ikea, ordinate il mobilio e ve lo fate spedire a casa, piuttosto come, non so, prendere del personale, l'agenzia di marketing, scusate l'agenzia per il lavoro, vi manderà il curriculum delle persone. Ma in sintesi, che cosa si fa in questo gioco? Ecco, beh, questa è la mappa, è una sorta di New York, New York lo dico perché c'è una sorta di Central Park qui e uno più piccolino che però lo ricorda molto qua. Avete la possibilità di acquistare o prendere in affitto dei locali che possono essere adibiti ad uso ufficio, ad uso commerciale o ad uso residenziale. E' importante averla a casa perché la casa vi rende felice, vi dà un posto dove dormire, dove stipare il cibo. Ma avete i negozi di vendita elettrodomestici, vedete se li spuntate, vi indica dove sono, la banca, la vendita di auto, la vendita di immobili, di mobili, scusa, non di immobili, non vorrei averlo pronunciato male. Import-export, che è un importante, diciamo, acquisto per quanto riguarda i bassi prezzi, quindi praticamente l'import-export vi dà dei materiali da vendere a prezzo più basso. L'agenzia di marketing, il negozio di articoli per ufficio, l'agenzia di reclutamento che dovrebbe essere qui. La scuola, la scuola è importante perché vi consente di prendere dei diplomi di gestionalità, insomma, di, non chiamo ingegneria gestionale, insomma, però, gestione aziendale, ecco, che vi consentono di possedere più negozi e il tutorial che al momento c'è ed è guidato dall'Uzio Fred vi farà fare. Abbiamo la vendita all'ingrosso, la stazione metropolitana con cui potete viaggiare da una parte all'altra della città istantaneamente, la gas station che è qua in basso, dove potete andare a rifornire e riparare la macchina, e poi revenue service, non ho ancora esattamente capito cos'è, qua potete flaggare tutte le aree, diciamo, gli immobili adibiti ad uso di vendita al dettaglio, ufficio a magazzino, potete vedere gli edifici vendibili che si possono vendere, insomma, che stanno vendendo, i distretti, i distretti, vedete, c'è Hell's Kitchen, Midtown, Murray Hill e distretto di abbigliamento. Allora, la cosa che capisco subito è che il distretto di abbigliamento, dove sono io, si vende soprattutto abbigliamento nell'Hell's Kitchen a ristoranti, ma in realtà i ristoranti ci sono. Ci sono veramente tante cose da dire, magari ne faremo più di un episodio, però, in sintesi, qua vabbè, tutti i tipi di negozi che potete avere, sviluppo web, supermercato, enoteca, studio legale, gioielleria, negozio di regali, fiorista, il fast food, la caffetteria e il negozio di abbigliamento. Attualmente io sono in casa, devo mangiare, a breve, sono le 15.26 di mattina, consumo il cibo e vi porto a fare un giro nelle mie proprietà. Qua c'è il mio negozio di articoli da regalo, io posso rientrare. Oggi è chiuso, perché, aprendolo in Bizman, vediamo per ogni negozio quello che vende, il prezzo, in questo caso vendo i regali costosi, i regali economici e la lattina di soda. Abbiamo gli orari, gli orari sono divisi in tutta la settimana, siamo chiusi il lunedì e il giovedì, oggi è il lunedì, domani si lavora. Domani ci sarà il mio dipendente Curtis Lee, che lavorerà dalle 11 alle 19. 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana e lavora per me. Poi abbiamo il marketing, abbiamo le impostazioni dove possiamo scegliere il logo, possiamo vedere i dati dei clienti avuti nei giorni precedenti. Accedendo invece direttamente da Bizman, possiamo scegliere l'altro negozio che è Indie Burger, ma vi porto ovviamente a vederlo, che è qui, l'ho preso sulla stessa strada, proprio vicino, e qua vendiamo hamburger. Non ho una scopa perché bisogna anche pulire, quindi potete assumere i dipendenti per vendere o per pulire. Qua abbiamo hamburger, ho comprato le scorte anche di hamburger qua fuori, nel magazzino, con questo possiamo trasportare, con questo carrellino, i pacchi dalla macchina o dal camion, perché possiamo comprare anche il camion, e li facciamo vendere. Per dire, qui abbiamo un altro tipo di orario, credo, dal mercoledì alla domenica, dalle 12 alle 20, copriamo sia il pranzo che la cena. Ovviamente il Market Insider ci consente di capire di quali oggetti c'è più richiesta. Divisi per quartiere, ovviamente abbiamo l'indice di prezzo per l'importo e il numero di negozi che vendono quella determinata attività. Sono tantissimi per quartiere. Il bello è che qua avete gli eventi e i negozi aprono e chiudono continuamente, quindi magari un negozio è in difficoltà, chiuderà, ne apre un altro, insomma, e si va avanti così. E qui su Real Estate, gli immobili in vendita. Si parla di milioni di dollari però, in questo caso. Abbiamo i miei dipendenti, che sono questi, con la loro percentuale di soddisfazione. Perché la soddisfazione? Perché se la soddisfazione scende, inizieranno a trattare male i clienti, infatti vedrete i clienti che commenteranno dopo aver pagato in cassa, dicendo io non tornerò più qui, oppure ottimo servizio, tornerò di sicuro. E la loro soddisfazione è determinata da, ovviamente, li paghiamo regolarmente, giornalmente, a ora. Ma soprattutto hanno delle necessità. Io avevo assunto la prima, volevo part-time, ma, e vedete qua, lui chiede invece tempo pieno, glielo ho dato, è un'altra richiesta che ha. Io le aveva alto, ma part-time e lavorava 40 ore, era scesa al 40%, e rispondeva male a tutti, allora l'ho licenziata e ho preso dei full-time. Potete anche dargli, in un giorno di riposo, la possibilità di, pagando 500 dollari, di aumentare del 10% una delle due abilità. In questo caso, assistenza clienti, farei perché la pulizia non mi interessa. Al momento non posso ancora permettermi assolutamente di assumere qualcuno per la pulizia. Infatti passo io e pulisco io nei negozi. Percentuale 63, invece l'altro dipendente vuole lavorare in un ambiente tranquillo. Se la mia felicità è più alta del 50%, lui è bassa questa richiesta, però, insomma, è più contento che lui. Ok, ora, gli hamburger sono quasi finiti, ma in realtà diamo un'occhiata all'altro negozio, in modo da capire a che punto siamo. Siamo abbastanza pieni, ma ci mancano le scorte, soprattutto dei regali economici. Cosa facciamo? Andiamo a comprarle, così vi faccio vedere, vi porto con me in un viaggio. Allora, l'auto la potete guidare come dei pazzi, un po' sulla falsariga di GTA, ma la danneggiate. La particolarità di questo gioco è che non potete, qua si sono incastrati, e vi dico onestamente questa cosa la prima volta che mi capita. In realtà, quelli gialli sono i taxi, li potete prendere. C'è veramente, questo gioco ho trovato veramente di tutto. Altra cosa, vi faccio vedere, non potete, vedete qua se mi fermo, mi dice parcheggio illegal. Se parcheggio qui, multa è di 250 dollari, quindi non bisogna parcheggiare lì. Bisogna parcheggiare in queste zone, appunto, i parcheggi, e in alcuni casi è gratuito, in altri casi pagherete dai 5 agli 8 ai 15 dollari. Questo è un negozio, adesso è chiuso, apre tra 15 ore, vende camion, come quello che vedete lì, e questi furgoncini qui. Si parla dai 6.000 per i furgoni ai 98.000 per i camion grossi. Tenete conto che io parlo bene di questo gioco per un motivo. Il gioco è in beta 5, appena già andato a beta 5, e quando vedete questo video, non so ancora a che giorni di settembre, però entro il mese di settembre uscirà la beta 6, la beta 6 giungerà ulteriori difficoltà al gioco. Ora non è difficilissimo se sapete tenere a freno le spese, ma sappiate che giungeranno la tassazione e tante altre cose, quindi molto molto interessante. Qua potete, vedete, entrare nei negozi, rispettando sempre l'orario di apertura, qua sono arrivato un po' al pelo, potete prendere o il muletto o il carrellino. Il carrellino lo potete anche fregare, portarvi in macchina, ma poi al ricarico della partita scompare. Dobbiamo comprare dei regali economici. Costano un po', perché costano 900, ne compro uno solo. La 200 regali economici. La cosa bella è che se qua c'è gente, magari nel weekend la trovate, potete, cioè una volta che cliccate qua, vi mettete in via ordine, vi mette in coda, quindi se c'è altra gente si mette in fondo e aspetta. Ha delle piccole chicche questo gioco, che è veramente eccezionale. Allora, io adesso carico in macchina, il carrellino, vabbè, si rimette dentro da solo. Manage storage, abbiamo, vedete, questo è un altro di quei carrellini che ho fregato, 100 hamburger, 200 regali economici e una tannica di benzina, qualora rimanessi a piedi. L'auto subisce danni, si è andata a sbattere, è mostrato qui con la rotellina. Quando è molto danneggiata la vedete proprio deforme, con i fari rotti, e soprattutto tira magari sinistra o destra, quindi diventa difficile anche da controllarla. Quindi, ovviamente qua devo... Ah, qua abito qui, perché, vedete, questa è l'IKEA, il logo è lo stesso, entrando vi fa fare proprio il percorso obbligato tra mobilia e altre cose. Adesso andiamo a casa, ormai conosco a memoria tutto, bisognerebbe seguire i semafori, ma io spero aggiungano anche le multe, perché sarebbe veramente molto più pesante come gioco, ma molto più soddisfacente. Adesso, io parcheggio il veicolo, e vorrei prendere il carrellino, intanto non me ne faccio niente qui, e sempre il regalo economico e gli hamburger. Ora, andiamo prima a consegnare nel negozio qui, no, non voglio prenderlo così, ma voglio entrarci. Consegniamo i regali costosi, no, i regali economici. Il caro qua, vedete, me li rifornisce, e poi vado a piazzare i due regali economici, li metto place e lo metto qui. Prendo questo, esco, e vado nell'altro negozio. Vado nel negozio degli hamburger, e, beh, no, qua è pieno, quindi io rimuovo questo, e lo piazzo lì, vicino all'altra cassa. Ovviamente dovete anche rifornire la cassa con le borse di carta, per poter dare in mano i clienti. mi servirebbe anche una scopa, e la scopa mi ricordo che, beh, ormai è tutto chiuso, quindi diciamo che andiamo a casa e andiamo a dormire. Andiamo a dormire, dormiamo fino alla mattina dopo, alle 8, anzi iniziamo alle 10, così vi faccio conoscere il mio dipendente. Abbiamo perso 700 dollari, perché stiamo pagando l'affitto di casa, l'affitto dei due negozi, e una campagna di marketing. Quindi il tutorial mi sta obbligando, diciamo, a poter fare quello che volete, ma dalla beta 6 non sarete più obbligati a seguire il tutorial. Allora, vedete che qua, articoli da regalo, a che ora? Ah, è aperto adesso, ok, vedete, è comparso lui, possiamo metterci noi stessi. Potete all'inizio decidere di lavorare voi stessi nel vostro negozio, così come andare in altri posti, e lavorare. Il bar, ad esempio, all'interno, scusami, il bar all'interno ha, qua si pagano, allora il bar, vi faccio vedere, all'interno ha degli orari e potete decidere di farvi assumere. Quindi praticamente lavorate come cassiere, vi pagano 25 all'ora e avete un giorno libero, però venite qui dalle 8 alle 16, continuate, 8 ore e vi guadagnate i vostri soldi al giorno. Potreste farlo all'inizio per mettere insieme il business. È proprio la logica di questo gioco che mi piace, cioè il fatto di sporcarsi le mani, impegnarsi, cioè simulandolo ovviamente. Però, ecco, questo è l'edificio degli elettrodomestici. Entro nell'edificio e qua vedete che vendono un po' di cose. Vendono gli espositori, vendono i frigo industriali, vendono un po' di cose. Qua c'è lo store manager con cui potete parlare per organizzarvi una spedizione degli oggetti. Quindi li potete ordinare sia dal cellulare che ovviamente da qua. Potete anche organizzarvi con un servizio di delivery e quindi di spedizione quando le vostre merci sono finite. Però al momento si paga 1000 di spedizione e al momento non me lo posso permettere. Ok, ho fatto la coda, carico in macchina quello che mi serve e me ne vado. Oh, non potete ovviamente essere investiti però. Qua davanti dovrebbe esserci la scuola. Ormai inizio a conoscere. Ogni edificio invece, ogni edificio ha delle caratteristiche. Cioè vi viene detto se l'edificio è in vendita, se è libero. Entriamo qua ad esempio. Io ho un po' fame adesso. Entro nell'edificio e questo vende hot dog. Clicco su di lui, scelgo l'hot dog e una lattina di soda. Pago 6, mi metto in coda, non c'è nessuno. Va, prende tutto quello che deve prendere. Mi serve. Ma si pagherà un sacco d'affitto. Mangio tutto e poi butto il sacchetto. Quindi mi sono curato un pochino la fame. Volevo farvi vedere, però non so se riesco. Alcuni edifici, ad esempio, vedete, non è in vendita, però potete fare un'offerta. Se è un'offerta che non può rifiutare, insomma, troppo alta, vi vende e il quartiere diventa vostro. C'è il quartiere, l'edificio diventa vostro. Qua stiamo sconfinando in una kitchen cell. Hell's Kitchen. Ok. Qua avete gli orari, tutti i giorni, e possiamo vedere le cose che vende, i fiori. E questo è un invia di sorpreso commerciale, non so cos'è, ma si parla forse di 61 milioni, quindi un sacco di soldi. Ok, abbiamo fatto questa questa piccola spesa, abbiamo caricato in macchina tutto quello che ci serve, abbiamo messo il mocio, andiamo a pulire adesso il negozio, l'ultimo negozio che non ce l'ha, questo ovviamente è da animali agire così, però potete poi giocare come meglio credete. Vediamo. Mi metto qui. Parcheggio, gratuito qua, fortunatamente, bisogna guardare anche la location anche in base alle vicinanze con i negozi, con la metropolitana, quando decidete di prendere in affitto qualcosa, probabilmente quando avete soldi ve li comprarete e la soddisfazione sarà senz'altro maggiore. Io metto il mocio qui, guardate, da soddisfazione anche questo perché vi mettete a pulire, lo sforco scompare. Tra poco, credo, anzi no, questo negozio è chiuso, poi qualora volessi invece, faccio place, la metto qua, qualora voleste lavorare voi stessi potete mettervi qui e mi assegna te stesso, accelerare il tempo o saltare direttamente alla fine del turno ma in realtà non entra nessuno perché dovrei andare negli orari di lavoro e aggiungere la giornata di oggi, di martedì, con le ore. Potete aggiungere lo spezzato, quindi la mattina e il pomeriggio e il gestitore di cassa invece è appunto l'operatore che se ne occupa. qua è il conto economico del negozio con tutti i vari giorni di Indie Burger siamo in perdita io vorrei adesso fare le pulci anche all'altro negozio perché mi piacerebbe capire sono arrivato a guadagnare con il solo negozio di articoli da regalo nel momento in cui erano diciamo al massimo della resa e gli articoli da regalo 1000 dollari al giorno. Ora potete anche arredare cioè potete praticamente mettere i pavimenti e le pareti e altri mobili quello però non so se influenza effettivamente il gradimento poi se qualcuno di voi lo sa ben volentieri. Allora questo qui è il profitto giorno 48 paghiamo spese 420 gli stipendi 328 l'affitto 92 le risorse il profitto però è stato di 1200 1200 28 1040 e 1170 lo vedremo poi a fine giornata che cosa renderà la cosa un pochino più così di cui si potrebbe magari un pochino abusare il fatto che potete passare avanti ovviamente mangiando la giornata tranquillamente quindi adesso se io vado a mangiare perché sono anche a un certo punto svenuto mi hanno portato in ospedale e mi sono risvegliato all'ospedale un po' come capita in GTA quando si muore adesso io dormo fino alle sette e mezza di domani mattina alla mezzanotte ci daranno un altro ok profitto totale 20 dollari meno 20 dollari che non è male avremmo un negozio solo aperto dovremmo organizzarci un po' meglio intanto hai dato un messaggio dal reclutamento che praticamente mi dicono ok abbiamo anche il Overhill che è un maschio 54 anni vorrebbe lavorare a tempo pieno e se possibile nessun turno mattutino lui chiede 42 che è un po' tantino ma io l'ho richiesto per cosa? per le pulizie? no per l'assistenza clienti perché voi potete chiedere all'agenzia di mandarvi dei candidati da 1 a 10 nel giro di 1 o 10 giorni ovviamente più candidati chiedete più pagate più cioè più in fretta lo volete meno pagate calcolate che pagate 500 per cercarne 1 in 1 giorno 50 per cercarne 1 in 1 in 10 giorni quando arriva non arriva dopo 10 giorni ma nell'arco di 10 giorni e quindi non andate voi ad assumere è l'agenzia che vi manda il curriculum non è male però è più bravo quello che ho assunto quindi annullo vedete si chiama adesso vabbè sono chiusi poi mi vedo perché è troppo presto è la mattina è troppo presto adesso poi vabbè adesso possiamo andare a vedere anche che cosa ci tocca fare adesso è mercoledì lavora al giorno gli indie i negozi di articoli da regalo e lavorerà sicuramente anche i burger che oggi inizia la tour de force di 5 giorni quindi inizieremo a massimizzare un pochino i guadagni ora stiamo lanciando una campagna di marketing per quanto riguarda il nostro negozio perché ci mi ha detto il tutorial degli hamburger quindi il marketing abbiamo il 27% spendiamo circa 300 dollari fino a una spesa di mi pare 8000 e potete condividerli su degli pseudonimi diciamo di social tipo google tipo instagram tipo twitter cioè quelli lì insomma quindi pagate e la gente conosce il vostro post ovviamente dovete sempre calibrare e metterci dei dipendenti in grado di sostenere il carico di lavoro insomma perché la gente dopo aver visto i post arriverà qua abbiamo questo mi piace molto perché dovete cliccare direttamente su di lui l'hamburger è l'unico che ho visto che con soli 4 dollari vi consente di da zero riempire la fame completamente io ho aperto un negozio di hamburger ma il mio hamburger non lo pagano certo 4 dollari ma lo pagano molto di più poi se avete domande scrivetemelo nei commenti farò un altro video magari ho fatto vedere a grandi linee quello che è il gioco adesso vediamo un attimo se riesco a vedere quanto lo vendiamo da noi ah no lo pagano 4 anche da noi no il pezzo di mercato 4 da noi 6,1 ma la gente lo compra dovrei abbassarlo a 4 anch'io in effetti però vedete qua è un negozio questo è un retail available for rent è un quartiere di vendita al dettaglio che noi possiamo decidere di andare ad affittare quindi praticamente possiamo poter andare ad affittarlo 97 dollari al mese con un deposito infatti se io restituisco l'affitto di questo immobile mi rideranno 2000 anche lì perché se li erano presi come caparla in pratica vabbè la macchina è qui la via ormai inizio ad abituarmi abito qui insomma e quindi adesso devo decidere potrei andare decidere di andare a lavorare al supermercato mi assume però il giorno dopo non il giorno stesso per arrotondare oppure vedere quant'è il guadagno o la perdita dopo aver passato tutta la giornata a fare niente e aspettare il mio la rendita del mio negozio vediamo saltiamo direttamente a domani mattino alle 7.35 quindi passiamo più di 20 ore a fare niente ormai siamo degli imprenditori navigati e vediamo se questa cosa è sostenibile abbiamo perso 229 dollari il business non sta andando bene perché abbiamo più spese che guadagni quindi ora bisognerà rivedere qualcosina intanto Indie Burger è sempre 27 di marketing tra l'altro l'altro non ne ha infatti non ha marketing indice di traffico 10% e il 15 e speriamo perché ci spendiamo 300 dollari 325 dollari al mese al giorno scusate e qua bisogna analizzare tutto bisogna analizzare anche il vedete questo è il marketing possiamo auto innovarla spendiamo 300 al mese 25 giorni 300 al giorno 25 giorni rimasti e dovremo fare due conti ma in realtà non sta andando benissimo non sta andando benissimo i prezzi sono alti quindi possiamo pensare magari di andare ad abbassare un pochino il prezzo però sarà da vedere e poi senz'altro aumentando il numero di business a nostra disposizione volevo aprire anche una gioielleria diventerà più complicato gestire il tutto perché comunque dovete gestire anche la vostra fame la vostra il vostro sonno quindi non sarà senz'altro semplice io lo vendo 4,5 e vi faccio vedere come ultima cosa oggi è giovedì mannaggia giovedì apre apre sì però giovedì giovedì dalle 12 mentre invece l'altro indie in giovedì è chiuso io apro il giovedì e tengo aperto dalle 9 fino alle 19 faccio 10 ore vado a mangiare qualcosa a casa poi vado subito a lavorare mi diverto a sperimentare anche per farvi vedere il gioco vado al frigorifero consumo il cibo fresco che ogni tanto vado al supermercato compro e poi porto nel negozio quindi abbiamo detto quindi 9 19 aperto anche oggi che è giovedì vedete che non c'è il dipendente quindi vado a farlo io dalle 9 alle 19 sì no non qui ma l'articolo di regalo che è qua vi faccio vedere anche come funziona allora entra mi metto alla cassa mi dirà adesso che sono chiuso però che se ne fa rega mando avanti il tempo veloce il tempo va avanti veloce perché dice che siamo chiusi avevo detto che aprivo le 9 no scusami gift indie oggi è giovedì ah dalle 11 dalle 11 no no dalle 10 dalle 10 adesso mi darà aperto infatti vedete adesso accelero il tempo la gente entra farà il giretto si comprerà le varie cose paga e si ne va se c'è qualche cosa di rilevante ve lo dice il gioco vi dice ottimo servizio grazie oppure non tornerò mai più ok intanto sta andando bene potremmo andare avanti così fino alla fine giornata però io accelero il turno ok qua abbiamo chiuso è tutto sporco e questo influenza molto dovrei in futuro quando avrò più soldi pagare un dipendente solo per pulire magari un paio d'ore la mattina quindi un part time abbiamo chiuso tutto e vediamo se effettivamente il mio business ha bisogno di rivedere qualcosina ma probabilmente si perché la campagna di marketing mi ha un po' fatto sforare ora i negozi sono stati aperti tutti e due abbiamo avuto un guadagno che ha compensato la perdita del giorno precedente non è male sarà interessante da vedere appunto a settembre quando usciranno le difficoltà aggiuntive e le tasse soprattutto le tasse ovviamente è un play test nel senso che una beta non è ancora uscito su Steam ma vi ricordo che andando sul sito di Big Ambitions su Steam scusate su internet sul loro sito potete acquistare il pacchetto da 19 però lo giocate solo quando uscirà su Steam a 29 con il DLC delle auto auto aggiuntive immagino e a 39 dollari il DLC delle auto e anche il DLC degli edifici aggiuntivi ovviamente questa è la versione silver quindi la versione senza il DLC degli edifici assolutamente vale tutti i 29 dollari che costa ringrazio lo sviluppatore per avermi concesso questa prova l'ho abbastanza tampinato dico la verità perché lui non mi sembrava propenso all'inizio lo ringrazio ancora e ringrazio anche voi per la visione fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate nei vostri nei commenti ciao ciao ciao